Pochi pelli che vi le impreviste perché non avevi per esempio da una banda che stavamo facciando il remorso. Però è il tributo che ci avrà raccettato, raccetti. A proposito, se sei un po' comune, ora mi vedo il signore c*****o che vuole conto dalle armi che portavamo. Vorremmo che il posto là di cacciamo a...vonde cacciamo il c*****o. No, no, no. Non fa. 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 Non fa.